Dopo le indiscrezioni sui nuovi possibili scenari societari in casa Brindisi con una gestione unica a Bassi Vangone si inizia a pensare ai primi necessari aspetti concreti che precedono la programmazione per il nuovo anno. Il primo nodo riguarda il tema delle liberatorie, a partire da quella dell'ex tecnico Livieri al quale è stata saldata solo una delle due vertenze nelle quali il Brindisi era stato condannato ai pagamenti arretrati. La seconda vertenza, non saldata, infatti porterà ad una penalizzazione iniziale ma dovrà comunque essere saldata prima dell'inizio del nuovo campionato. Questo ovviamente riguarderà anche le necessarie liberatorie da parte dei calciatori per evitare nuove vertenze nella prossima stagione in attesa del saldo degli acconti pagati recentemente sul progresso. In attesa di comunicazioni ufficiali sarà probabilmente questo il primo vero banco di prova di questo possibile nuovo assetto societario e soprattutto del raggiungimento di un equilibrio tra le varie anime del sodalizio biancazzurro che ovviamente dovrà poi essere formalizzato e ufficializzato. Aspetti fondamentali anche per dare un segnale chiaro sulle possibili ambizioni future.